siamo pronti eccoci qua oggi parliamo di sposa del mese di maggio e quindi mtc parrucchieri vuole far vedere io metterò qualche foto eccomi qua perfetto questa è una cartella specifica su facebook dove ci sono delle acconciature per dei servizi fotografici che sono stati realizzati per ines callori produzione moda che mia sorella mia sorella che gentilmente mi ha chiesto di dare la mia opera a realizzare delle acconciature sono sempre molto personali in questo caso specifico sono un pochino molto elaborate ma anche ci sono delle acconciature molto semplici lista poi a un'intervista conoscitiva che bisogna fare per trovare la soluzione ed è esatta noi nel momento che realizziamo acconciature da sposa andiamo a conoscerci un pochino andiamo a divertirci perché poi l'acconciatura da sposa è nell'immaginario di tutti una cosa bellissima unica irripetibile e quindi gioia gioia di vivere allora ecco qui per far vedere dei profili che possono essere inusuali per una persona che non si è mai sposata e questi volumi possono essere qualcosa che al momento possono dar fastidio non piacere nell'insieme perché quando noi abbiamo un abito da sposa che crea volume nello spazio dobbiamo calibrarlo anche per le acconciature da sposa ecco un'altra con dei bellissimi pettinini dove andiamo a guarnire con queste ciocche sciolte questa è una una treccia semplicissima e dura anche parecchie ore quindi per ogni persona può essere bello un qualche cosa o di sofisticato o di semplice come come questo ecco io sono nel camerino dove sto pettinando una delle bellissime modelle del atelier Ines Callori eccola qui nella sua simpatia con il telefonino una sposa rimane sempre inusuale e andando avanti ci sono altri particolari bellissima eccola e io mi diverto tantissimo con queste giovani ragazze dandogli l'opportunità di esprimere la loro semplicità ma anche essere sofisticati eh sia da modella e sia da donna ecco questa è una foto in bianca e nero bellissima e proprio in questi giorni abbiamo fatto iniziato a fare cerimonia questa è una delle tante che stiamo realizzando e quindi eh ieri ho avuto l'opportunità di eh scattare questa foto a questa bellissima modella e dopo di questa eccola qua sempre la stessa bellissima ritornando a noi vediamo se riusciamo ritornando a noi bene era solamente per far vedere una carrellata dei lavori che possiamo realizzare sia ehm da punto di vista acconciatura ma anche di trucco abbiamo la nostra truccatrice Mary che è fantastica poi nelle prossime vi farò vedere i lavori anche di Mary e quindi noi ci troviamo in via Tor Vergata trentanove a eh Roma e ci potete trovare in telepiattaforme con MTC parrucchieri e vi lascio con questa immagine bellissima di questi fiori incastonati su una treccia di semplicità e allora stile italiano nel mondo la proposta di MTC parrucchieri per le spose di maggio di quest'anno ciao e ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 ciao